L'idea che noi dobbiamo avere dell'accoglienza è un'idea che fa vari passi. Il primo è quello ovviamente di garantire lo status e su questo stiamo cercando di accertare i tempi e anche con gli ultimi decreti abbiamo ottenuto un sostanziale intervento per ridurre i tempi, per accertare se alcune persone hanno meno diritto alla protezione umanitaria. Si tratta complessivamente di circa il 60% tra protezione umanitaria, internazionale e richiedenti asilo. E l'altra ovviamente è quella di capire quali sono le condizioni nelle quali vivono queste persone che dovrebbero avere un percorso di integrazione, oltre a quelli che devono essere rimpatriati. Io penso di essere contrario da molto tempo all'accoglienza, così come avviene in Italia, nel senso che noi non abbiamo i mezzi, non abbiamo le risorse per mantenere tutti quelli che arrivano dalle nostre parti, quindi bisognerebbe evitare che arrivassero ogni giorno migliaia di persone. Il modo per evitarlo ci sarebbe e il primo è quello di pubblicizzare la nostra contrarietà a nuovi arrivi, ma non perché siamo diventati crudeli, perché non abbiamo le possibilità per ricevere tutti e per ospitare tutti. E tra l'altro questo è evidente e basta aver seguito il servizio registrato a Milano alla stazione centrale. Milano è invasa da povera gente che non sa dove dormire e quindi la situazione è sempre più drammatica. Io sono anche convinto che quei signori delle organizzazioni non governative facciano un lavoro da applaudire, però bisognerebbe che una volta che salvano le persone in mare le portassero dappertutto, in Inghilterra, in Germania, a meno che in Italia. Non riesco a capire perché devono arrivare tutti qua da noi, che siamo i più fessi d'Europa, quindi accogliamo tutti anche con generosità potenziale, ma non avendo i mezzi poi li trattiamo come sappiamo. Tra l'altro spendiamo molti soldi per pagare gli alberghi, per sostenere questi poveracci che arrivano il più delle volte non da paesi in guerra, come spesso si dice erroneamente, ma arrivano dall'Africa dove ci sono situazioni di indigenza. Però noi non possiamo risolvere i problemi mondiali della povertà, noi possiamo soltanto cercare di ridurre il numero dei nostri poveri e non siamo in grado, come abbiamo potuto verificare. E quindi non possiamo sperperare quel poco denaro che abbiamo per mantenere gente che può rimanere a casa sua. Tra l'altro si dice ma come si fa a non salvare la gente in mare? Ma sai, basta non andare a salvarla, per cui sprofonda una nave, ne sprofondano due, forse anche tre, la quarta non parte, perché non sono deficienti quelli che vengono qua. Vengono perché sanno che noi li salviamo e diamo loro una ospitalità, se vuoi anche piuttosto squallida come quella che possiamo riservare noi a Costoro, però comunque li ospitiamo. Io sono profondamente contrario. Io sono veramente, mentre posso ovviamente comprendere delle opinioni di Formi, ma dire ne facciamo affondare una, ne facciamo affondare due, ne facciamo affondare tre, ma come si fa di fronte a persone che stanno, la legge del mare, non una legge dello Stato o una legge dell'Unione Europea, la legge del mare, quella che esiste da sempre, dice che se una persona sta affogando la devi salvare. E il fatto che non si faccia una azione... No, bisogna farlo. No, ma tra l'altro per me la cosa più grave sono tutti quelli che sono già morti, perché vorrei ricordare che nei tre mesi, nel 2015, da gennaio a marzo, nel quale non c'è stata una copertura di un'azione di search and rescue, cioè di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo, c'è stata una crescita esponenziale di morti. E quei primi tre mesi hanno portato il nostro Paese a fare una pressione molto forte rispetto a tutti gli altri Paesi europei per garantire questa salvezza. Perché noi siamo orgogliosi della nostra marina e della nostra guardia costiera. Perché io quando vedo negli occhi un bambino che sta affogando, non è che dico non ti preoccupare, intanto affoga che poi il prossimo non viene. Perché questo io lo considero francamente troppo. Troppo. Poi possiamo anche discutere sull'accoglienza e Feltri che è una persona molto, diciamo, che conosce varie questioni. Io su tante cose posso essere d'accordo sulla inadeguatezza dell'accoglienza che dobbiamo migliorare.